Allora, oggi sul mio capo direvi una bella cosa. Dato che avevi tre anni che mi scassate la minchia, che ricetti che mi non vai buttare, che vi fatti i soldi, che non mi potete avvenire più, che facciamo lo sanno. Mi unghiaio ora. Ora vi metto tutto in tuo culo. Eh, che sbaglio è? A cominciare nel romano vi faccio lavare un doppio della benzina. Così c'è di che scecchia a pagare, e lasciate queste specchie macchine dentro, che fanno un bottello. Tanto io, sogno l'altro, sogno un magnaccio, come ricetti altri. E ora mi fottere per davvero i soldi. A me non può piacere, no? A così se mi faccio. E scusa. Ora mi si dico, dopo che io avevi sei anni, che ho detto sangue, caldo, per l'Italia, per altri altri, e che facete? Ti scassassero sulla minchia. E che sbaglio è? A dire che vi stessero contenti da avere un Presidente come il mio. E invece contate la mente. Ma ora faccio finire. Eh, da domani vorrei con io. Vi prendiate le vostre responsabilità e a molti minuti vi soccate la cucuzza. A così vi insegnate, che se vi mettete contro il vostro Presidente, io vi faccio una macchina. a noi. Vi state muti muti nei miei casetti. E a me fate lavorare in pace. Da oggi, con dici minuti a parola, ci sparigio la famiglia. A così vi ammazzate. E a vero, che se ancora continuate, vi faccio trovare una bolletta della luce, che a Pippa Valla vanno a ammazzare. Vanno a vinnere i casi, le mogliere, le famiglie, le mutande. E a me carocane. E come non bavate? Vi mandano i Carabinieri. A così vi insegnate a dire, che io ho fatto i soldi, che ogni cosa è culpa mia, e ma c'è la mia. Non c'è manco che era, Dottor Rina o? Io sono Presidente. Io ero uno normale. Mi veniva a vinnere aglio le circonvallazioni. Scusate. E che specchio è?